tema. Parole e comportamenti che fanno innamorare totalmente gli uomini. Provare per credere. Allora, se vuoi emozionare e quindi di fatto far innamorare completamente gli uomini, devi essere, devi mettere in atto alcuni comportamenti che producono emozioni. Qual è il modo migliore per far innamorare un uomo? Ovvero riuscire a conquistare la persona che ti piace e che magari non è interessata a te come tu vorresti. Allora, se non ci sono i presupposti, diciamo, per far innamorare naturalmente una persona, ci sono altre modalità che tu puoi utilizzare, che comunque sono molto utili, molto importanti per sedurre, per far innamorare proprio la persona che ti interessa. Quali sono queste modalità che tu puoi utilizzare? Beh, intanto, diciamo, per far emozionare un uomo devi cercare di essere sorridente e positiva, il che non vuol dire fare l'occa giuliva con la hi 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 che fa l'occa giuliva, ma essere sorridente e positiva è fondamentale. Perché diciamo, fanculo le persone tristi, fanculo! Nessuno apprezza le persone sempre tristi col muso lungo. Ovviamente questo non significa che devi andare in giro a raccontare bazellette o, diciamo, ma mostrare un atteggiamento solare. Questo è fondamentale, cara carampana, cara margassona. È molto importante. Poi anche mostrargli, tra virgolette, la parte migliore di te. Il che non significa, diciamo, fare il salto in banco, ma essere anche per te stesso. Essere veramente la parte migliore, che vuol dire una parte, una donna che non ha negatività, una donna che è positiva, una donna che ha voglia di giocare, una donna che ha voglia di fare. Questo è un altro atteggiamento molto importante che produce emozione. E poi, diciamoci la verità, cara margassona, tu che racconti subito tutto, che gli spiattelli tutta la tua vita, tutti i tuoi problemi di merda! E questo è sbagliato, perché se tu lo carichi di problemi, quello scappa subito. Non devi parlare che magari, che ne so, che sei senza lavoro, senza qua, senza là. No! Che c'è problemi con i figli, che i tuoi figli si drogano, che ne so io, cose di questo genere. Non devi raccontare niente. Devi essere misterioso. Evita di raccontare le cose, soprattutto i problemi, perché li metti in fuga, malgassona. Poi devi iniziare a flertare. Flertare in modo sottile, puntare lo sguardo, distogliere lo sguardo. Beh, questo è molto importante, imparare a flertare in modo sottile, perché che, insomma, dà degli input, dà degli stimoli, che sono molto importanti.